In questo contesto politico ha bisogno di una destra come la nostra, ha bisogno di una destra popolare perché dobbiamo restituire protagonismo al cittadino mentre la politica diventa sempre più elitaria e mentre i partiti si sono burocratizzati fino all'esasperazione dando alle oligarchie interne il potere di compiere la più vasta operazione di sequestro delle coscienze se è vero che ai cittadini è stato tolto persino il diritto a esprimere la preferenza su chi deve rappresentare i loro interessi alla Camera e al Senato.